Sono riprese stamani sul Monte Velino le ricerche del quarto escursionista disperso dallo scorso 24 gennaio. Si tratta di Gianmarco Degni, studente 26enne di Avezzano, che insieme ai suoi amici è stato travolto da una valanga. Degni è il fidanzato di Valeria Mella, 25enne, ritrovata nella mattinata di ieri dopo 27 giorni di battute nella vastissima area innevata, insieme ai compagni di escursione Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante. In azione, oltre ad una quarantina di soccorritori, due cani molecolari dei carabinieri. In particolare è al lavoro il secondo cane, dopo che nelle prime ore del mattino ha operato il primo, al quale è stato dato il cambio. Secondo quanto si è preso, non hanno dato risultati le battute cominciate nella zona dove sono stati ritrovati i tre corpi. Corpi che non erano molto lontani tra di loro e che sono stati ritrovati a circa un metro sotto la neve. Da quanto emerge da fonti dei soccorritori, i due cani stanno operando per la prima volta sulla neve ed inoltre stanno trovando difficoltà perché lo scenario è inquinato dalle operazioni di ieri, quando, a metà giornata, dopo il ritrovamento dei tre cadaveri, le ricerche sono state sospese per il pericolo valanghe causato dalle alte temperature. Intanto stamani all'obitorio di Avezzano c'è stato il riconoscimento dei tre corpi da parte dei familiari. Già ieri erano state effettuate le ricognizioni cadaveriche, la Procura della Repubblica ha escluso le autopsie vista la dinamica molto chiara. I quattro sono morti per via dei gravissimi traumi causati dalla valanga che li ha investiti.